E' stato il ministro dell'Interno Marco Minniti a chiudere i lavori di Cantiere Calabria la tre giorni svoltasi all'Università della Calabria, alla quale hanno preso parte quattro ministri del governo Gentiloni, ovvero Maurizio Martina, Claudio De Vincenti, Luca Lotti e appunto Marco Minniti, insieme a numerosi rappresentanti del mondo istituzionale. Oggi la Calabria è l'Italia e l'Italia è la Calabria, detto nel corso del suo intervento il ministro dell'Interno, perché da qui si guarda l'Italia e l'Italia in questi giorni ha guardato la Calabria. Tanti gli argomenti affrontati e in particolare il capitolo sicurezza definito bene comune ed un plauso e andato alle forze dell'ordine che, secondo Minniti, ci hanno garantito sicurezza senza portare a un paese blindato perché l'Italia è un paese che va guardato. Per quanto concerne la Calabria, il ministro dell'Interno ha concluso poi, indicando nelle sue vocazioni naturali e nella sua posizione baricentrica all'interno del Mediterraneo, i punti di forza per lo sviluppo. Nell'Andrangheta il principale nemico è la crescita che va sconfitto.